Ciao a tutti, vediamo oggi come ricavare le formule goniometriche. Che vuol dire le formule goniometriche? Supponiamo di avere due angoli. Alfa, diamo dei valori, per esempio 30 gradi. Supponiamo di avere beta uguale a 60 gradi. Chiediamoci, intanto, quanto vale il coseno di 30 gradi? Vale radice di 3 mezzi. Il seno di 30 gradi vale 1 mezzo. Il coseno di 60 gradi è 1 mezzo. Il seno di 30 gradi è radice di 3 mezzi. Allora, ci viene naturale farci questa domanda. Se ho due angoli, qualsiasi alfa e beta, e conosco il seno e il coseno di questi angoli, quanto vale il seno e il coseno della somma o della differenza degli angoli? Cioè, quanto vale, per esempio, il coseno di beta meno alfa? Allora, la prima cosa che ci viene in mente è vedere se è il coseno di beta meno il coseno di alfa. Vediamo se è vero. Allora, se io faccio il coseno di beta meno il coseno di alfa, e supponiamo che beta è 60 e questo è 30, o il coseno di 60, l'abbiamo scritto qua, è un mezzo. Il coseno di alfa, l'abbiamo scritto qua, è radice di 3 mezzi, quindi la differenza è 1 meno radice di 3 mezzi, ed è pure negativo, perché il radice di 3 è 1,7, è più grande di 1. Se io faccio beta meno alfa, 60 meno 30 è 30, quindi il coseno di 30, qua deve venire il coseno di 30, ma il coseno di 30 è radice di 3 mezzi, mentre se faccio coseno di beta meno coseno di alfa viene questo valore. Quindi, assolutamente, il coseno di beta meno alfa non è coseno di beta meno coseno di alfa. E lo stesso, il seno di alfa più o meno beta non è seno di alfa più o meno seno di beta. Quindi, fate attenzione, anche qui chiaramente se ci metto il più, non è questo. Quindi, la somma, il seno o il coseno della somma di due angoli non è la somma o la differenza del seno o del coseno degli angoli. e quindi dobbiamo andare a vedere come fare a ricavare il seno e il coseno della differenza o della somma di due angoli dati, conoscendo ovviamente il seno e il coseno degli angoli singoli. Cambiamo pagina e andiamo a fare delle considerazioni goniometriche su questo cerchio. Consideriamo allora il cerchio goniometrico e, come vedete, ho già disegnato degli angoli. Allora, supponiamo che l'angolo più grande sia l'angolo alfa, cioè l'angolo AOP, quindi tutto questo è l'angolo alfa. Quindi, scriviamo AOP uguale alfa. L'angolo beta sia AOK, quindi AOK sia uguale l'angolo beta, scusate, l'angolo beta. Quindi, supponiamo alfa più grande di beta e consideriamo l'angolo alfa meno beta. Allora, chi è l'angolo alfa meno beta? Se tutto questo è alfa e tutto questo è beta, questo in rosso è l'angolo alfa meno beta. Vedete? Quindi PQOP, quindi QOP per differenza è l'angolo alfa meno beta. Ora, guardate un attimo questo disegno. Se io vado a prendere, o meglio, se ruoto l'angolo AOK, che è l'angolo beta, quindi se sposto Q verso A, P va verso R, cioè questo spicchio, se ruoto lo spicchio QOP di beta verso A, arrivo in R. Questo vuol dire che i due triangoli AOR e QOP sono due triangoli che hanno la stessa apertura, gli stessi raggi, sono triangoli praticamente uguali. Cioè io ho che il triangolo P-O-Q è congruente al triangolo R-O-A R-O-A Quindi ho l'uguaglianza tra i lati PQ e R-A Allora, vediamo le coordinate di questi punti. A a coordinate 1,0 Q essendo l'angolo beta Q ha coordinate coseno di beta seno di beta le coordinate di P sono l'angolo alfa quindi P è coseno alfa seno alfa e rimane R che non è altro che coseno di alfa meno beta seno di alfa meno beta Adesso, se imponiamo che PQ sia uguale a R-A questo vuol dire chiaramente PQ al quadrato è R-A al quadrato quindi se due lati sono uguali anche i loro quadrati questo lo faccio per evitare di portarmi dietro la radice quindi come si calcola la distanza tra due punti in questo caso PQ sarà la formula dobbiamo applicare la formula della distanza che è questa quindi sarà Y2-Y1 al quadrato più X2-X1 al quadrato se adesso noi eliminiamo la radice perché stiamo considerando le distanze al quadrato abbiamo che è la Y di P quindi devo fare è la Y di Q quindi devo considerare P e Q R ed A quindi P e Q significa fare questa differenza seno di alfa meno seno di beta al quadrato più coseno di alfa meno coseno di beta al quadrato questo deve essere uguale a seno di alfa meno beta meno zero lo scrivo qua uguale seno di alfa meno beta meno zero tutto al quadrato più coseno di alfa meno beta meno uno coseno di alfa tutto al quadrato quindi ottengo questa uguaglianza sviluppiamo i quadrati vediamo cosa viene fuori quindi abbiamo sen quadro di alfa più sen quadro di beta meno due sen alfa coseno alfa più coseno di alfa coseno di alfa coseno di beta meno due coseno alfa coseno beta uguale questo seno di alfa meno beta meno zero e seno di alfa meno beta al quadrato è seno al quadrato di alfa meno beta più anche qui devo fare i quadrati quindi abbiamo più coseno al quadrato di alfa meno beta quindi il quadrato del primo più il quadrato del secondo che è uno meno il doppio prodotto due coseno di alfa meno beta adesso sfruttiamo l'equazione fondamentale della coniometria e vediamo che possiamo semplificare sen quadro di alfa più coseno quadro di alfa fa uno l'uno ce lo troviamo qua e quindi questo lo possiamo semplificare poi abbiamo sen quadro di beta e coseno quadro di beta fa uno scriviamo uno riportiamo questo quindi abbiamo meno due sen alfa cosen alfa meno due sen alfa cosen alfa allora qui ho fatto un errore quindi il quadrato di questo è sen quadro sen quadro meno due sen alfa sen beta sen alfa scusate ma questo non è cosen alfa ma è seno di beta quindi abbiamo correggiamo meno due seno sen alfa sen beta meno due cosen alfa cosen beta uguale uguale guardate qua abbiamo sen quadro di alfa meno beta cosen quadro di alfa meno beta sono la stessa sono gli stessi angoli e quindi questa quantità questo più questo fa uno e rimane meno due coseno di alfa meno beta uno e uno lo possiamo eliminare qua c'ho un fattore due un fattore due un fattore due col segno meno col segno meno e quindi eliminando questi segni meno e ed eliminando il due comune a tutti i fattori io ho questa formula la scrivo qua coseno di alfa meno beta è uguale sen alfa sen beta abbiamo detto che abbiamo eliminato il segno meno quindi diventa tutto più cosen alfa cosen beta questa è una delle tante formule goniometriche che adesso cominceremo a ricavare tutte partendo da questa vediamo adesso il vostro libro come tratta le formule goniometriche allora formule di addizione e sottrazione le abbiamo viste prima nel video e chiaramente il coseno di alfa meno beta non è il coseno di alfa meno il coseno di beta fa le stesse considerazioni che ho fatto io nel video quindi fa calcola la distanza questi due lati sono uguali anche se usa un disegno diverso e alla fine semplificando tutto viene fuori questa formula coseno di alfa meno beta è coseno alfa cosen beta più seno alfa sen beta ovviamente se facciamo l'esempio di prima cioè ci mettiamo 60 gradi e 30 gradi se sostituiamo i rispettivi valori vediamo che l'uguaglianza è verificata e qui fa l'esempio con 90 e 30 allora il coseno di 90 meno il coseno di 30 viene esattamente il coseno di 60 che è un mezzo eccolo qua se io applico la formula quindi ci metto il coseno del primo angolo il coseno del secondo angolo più il seno del primo il seno del secondo ottengo che il coseno di 90 è 0 il coseno di 30 è radice di 3 mezzi più seno di 90 è 1 seno di pi greco 6 è un mezzo risultato ovviamente è un mezzo adesso da cosen alfa meno beta come faccio a ottenere il coseno di alfa più beta poiché questo vale per qualsiasi angolo basta che io sostituisco a meno beta o meglio basta che sostituisco a beta meno beta quindi se io sostituisco l'angolo beta l'angolo meno beta ovviamente questa uguaglianza rimane valida e quindi ho il coseno di alfa meno meno beta sarebbe il coseno di alfa più beta sarà uguale eccolo qua coseno di alfa meno meno beta quindi appliciamo la formula quindi il primo angolo alfa il secondo angolo al posto di beta ci devo mettere meno beta quindi sarà coseno di alfa coseno di meno beta più seno di alfa seno di meno beta quindi ripeto questa formula vale per qualsiasi alfa e qualsiasi beta e quindi anche per meno beta o per meno alfa come poi vedremo in ogni caso una volta che abbiamo sostituito sfrutto l'uguaglianza tra gli angoli associati che conoscete benissimo quindi il coseno di meno beta è uguale al coseno di beta il seno di meno beta è meno seno di beta se io sostituisco ottengo la formula di addizione per il coseno quindi questa è la formula di sottrazione per il coseno formula di addizione per il coseno cos'è che cambia solo questo segno quindi se io conosco il seno e coseno di due angoli alfa e beta come faccio a trovare il coseno di alfa più il coseno di alfa più beta attraverso questa formula come faccio a ottenere la formula di addizione questa volta del seno e di sottrazione del seno e utilizzo questa uguaglianza qua allora il seno di un angolo lo posso vedere come il coseno di 90 meno l'angolo cioè seno di alfa o il coseno di 90 meno alfa è la stessa cosa quindi io considero l'angolo alfa più beta che lo chiamo sarà il mio x e quindi ho il seno di alfa più beta quindi al posto di x ci metto alfa più beta vedete al posto di x ci metto alfa più beta quindi diventa il coseno pi greco mezzi meno pi greco mezzi meno alfa più beta ma questo è uguale a pi greco mezzi meno alfa meno beta in questo modo il seno della somma di due angoli l'ho trasformato in una differenza tra angoli di cui devo fare il coseno e quindi posso applicare la prima formula la formula di sottrazione del coseno questo sarà il mio primo angolo questo sarà il mio secondo angolo quindi il coseno di alfa meno beta sarà la formula che devo applicare dove al posto di alfa ci metterò pi greco meno alfa e al posto di beta beta quindi vediamo come si fa la sostituzione applichiamo la formula quindi sarà il coseno del primo angolo coseno del secondo seno del primo seno del secondo ma pochè il coseno di pi greco meno alfa è uguale al seno di alfa e il seno di pi greco meno alfa è uguale al coseno di alfa la formula una volta semplificata diventa che il seno di alfa più beta sarà sen alfa cosen beta cosen alfa sen beta quindi qua si mischiano i valori del seno e del coseno adesso come avevamo fatto prima per ricavare la formula di addizione del coseno ricaviamo la formula di sottrazione del seno in che modo? sostituendo al posto di beta meno beta quindi seno di alfa meno beta sarà seno di alfa più meno beta quindi utilizzo questa formula per trovare la formula di sottrazione del seno e quindi avrò seno del primo coseno del secondo questa volta il coseno è meno beta coseno del primo seno del secondo meno beta quindi angoli associati seno di meno beta e seno di beta sono uguali coseno di meno beta sono uguali coseno di meno beta e coseno di beta sono uguali e quindi ottengo la formula di sottrazione del seno che è questa qua quindi sen alfa cosen beta meno cosen alfa sen beta vedete cambia anche qui i segni vediamo se fa l'epilogo no queste le vediamo dopo per ora fermiamoci qua un saluto un saluto